Buonasera a tutti, per esempio sono Herakius, come l'attivino, della situazione di una storia di un'esempio metallica e stasera vi presento all'Azorla, le regioni tanto imperiale, le regioni proprio imperiali, il quinto e il quarto secolo dopo Cristo e mi porto sempre con questo inspito. Ovviamente voi li guardate, non vi ricordano lo film molto, magari siete abituati ai film olivodiani e avete in mente Aula, vero? Sì. E invece no, invece questi rappresentano le costruzioni di regioni dell'epoca che erano altamente specializzati, più o meno di quelli di epoca imperiale, quindi di Traiano, di Augusto, di Marco Aurelio, insomma, possiamo dire del periodo d'Oreo, ma che si può evitare, insomma, era un romano adorato da un periodo d'Oreo specifico, non c'è stato. Chiudono perché i fatti leggeri nemici, in questo caso sono piedati, però voi immaginatevi invece gli uni di Attila, gli uni di Attila tiravano dal cavallo e avevano il vizio di iniziare a girare intorno all'emico e scagliare le frecce. piccate, iniziamo! 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 Verso la fine dell'impero calce, che cosa succede.... il senere che non vedremoナo ci darete anche più avanti, non starete ancora più dei brutti, ricordo di guardare questo, come il ritmo del fisico. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti